Cosa di fragile? Mi si spezza il cuore se penso a quanto ti amo. Dwight, sei tu. E' quello che devo fare. Sono suo. Lei era un angelo. Quando lo desidera, noi moriamo. Uno di questi giorni premerà il grilletto. E' un gran bel gioco. Tu continui a chiedermelo! E' A CHIEDERMELO! Quella è una donna per cui uccidere. Si insedia a un posto in cui entri tenendo gli occhi aperti. O non esci più. A CHIEDERMELO!